Perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo Con il tuo sorriso io mi prendo, mi splendo nel tuo sguardo Ringrazio il cielo per averti accanto Ti prendi in ogni cosa e non mi togli niente Vorrei sapersi quanto sei importante, ti voglio adesso e sempre E' questa la promessa che io faccio a te ASD Spoltore, realtà consolidata dell'entroterra pescarese Dieci anni di vita con Sabatino Pompa presidente In poco tempo dalla terza categoria al campionato d'eccellenza L'idea nata per gioco di costruire qualcosa comunque di concreto per la comunità E' stata di Loris Masciovecchio insieme con l'allora e attuale sindaco di Lorito E poi tutto il resto, ovvero le basi solide da cui non si può prescindere Scuola calcio settore giovanile di cui Loris Masciovecchio Tornato a Spoltore dopo cinque anni è responsabile La mission, crescere i ragazzi e portarli in prima squadra Il presidente Sabatino Pompa Questa realtà ormai si è consolidata nel tempo Grandi numeri per quanto concerne il settore giovanile della scuola calcio Che soddisfazione Sì, veramente una grande soddisfazione Diciamo che in questo periodo qua Ovviamente la prima squadra non sta andando bene Ma in compenso un settore giovanile meraviglioso Un settore giovanile in crescita E anche la prima squadra ci sta dando, diciamo, belle performance Il risultato non arriva Ma speriamo che adesso, diciamo, fra qualche settimana O anche già domenica possa arrivare i risultati da noi sperati Abbiamo sostituito il mister Non era più nelle corde della squadra E quindi abbiamo deciso di sostituirlo con un nuovo, nuovissimo Un giocatore, diciamo, che diventerà giocatore allenatore Di Camillo Di Camillo Daniele Lo conosco da tanti anni Lavora presso la mia azienda È un ragazzo d'oro E meritava questa opportunità Gliel'abbiamo dato Ma io sono sicuro che nel tempo Li senteremo parlare di Daniele Di Camillo Come un ottimo mister di eccellenza e magari qualcosa in più L'obiettivo di una società, soprattutto a livello di rettentistico È quello di far crescere i giovani per la prima squadra Qui ci state riuscendo? Qui ci stiamo riuscendo Facendo anche qualche piccola, diciamo, cessione a qualche altra squadra E abbiamo anche dei ragazzi che fra qualche anno Li vedremo, diciamo, in qualche serie maggiore Il nostro obiettivo, tipo di quest'anno, sarà quello della salvezza Con i nostri ragazzi La maggior parte sono i nostri ragazzi La sua avventura qui, no? Ormai sono passati dieci anni È nata così, per gioco Adesso è diventata una cosa molto seria I sacrifici sono enormi Perché dobbiamo parlare anche di questo Cioè, costa tantissimo questo giocattolo, no? Costa tantissimo Io sono stato fortunato, però, perché diciamo che Intorno a me si sono uniti degli amici Dei dirigenti amici Che siamo come se fossimo sei presidenti in questo momento Gianluca Fusco Peppe Paris Marco Giardinelli Serafino Quindi sono tutte persone Gino Gianzante Quindi sono tutti ragazzi, giovani Cioè, uomini come me Che ci mettono tanto impegno e tanti sacrifici E siamo sei co-presidenti È questo che ci dà la forza Di poter portare avanti una prima squadra Ma anche tutto il settore Perché sa benissimo Che una squadra di eccellenza Costa, costa tantissimo Però ce la stiamo facendo La cosa più bella è che Si è creata nel tempo Una vera e propria famiglia E non è retorica Ah sì, assolutamente sì Si è creata una famiglia Tant'è vero che noi Almeno una volta alla settimana Tipo giovedì sera Ce ne andiamo da Serafino A mangiare un po' di pesci A parlare anche di calcio E diciamo tra amici Quindi questo è fondamentale Ciao a tutti Flashback perché tu sei stato anche allenatore di prima squadra qui allo Spoltore. È partita come un gioco, siamo partiti proprio per cercare di recuperare quei ragazzi che ormai non avevano più voglia di giocare. Quello scherzo con Pompa e con altri soci che tuttora oggi si ritrovano in eccellenza, siamo partiti così per divertirci. Ora siamo in eccellenza, io ho lasciato dopo il camminato vinto, stravinto di prima categoria, ma l'ho lasciato perché credevo che si doveva fare un passo successivo. In quell'anno fu preso il mister Ronci che poi sappiamo tutti andò in eccellenza, al primo anno fece playoff, semifinale, fece benissimo. E io avrei intrapreso il percorso della collaborazione con la Curi che speravo potesse finire in un altro modo, ma purtroppo poi non sempre le strade riescono a combaciare. Quindi ho lasciato con la consapevolezza che non era finito un percorso ma che ne iniziava un altro. Dopo cinque anni mi ritrovo qui ad essere responsabile di una società che è in eccellenza dopo tanti anni. Questo mi sa che è il quinto e il sesto camminato di eccellenza. Questa è una creatura che senti tu. Sì, la sento mia, la sento mia insieme ai soci e ai collaboratori che ho ancora con me nel settore giovanile. Il fatto che è venuto Eddie secondo me ha portato un'altra ventata di freschezza, di ragazzi. Vedo i genitori che sono felici, i bambini che escono dal campo felici. Ripeto, ritornare e trovarmi ad essere responsabile di una famiglia di 250 unità, perché abbiamo 250 iscritti tra settore giovanile e scuola calcio. Questo vuol dire che quando ho lasciato sapevo che lasciavo in mani buone. Intanto c'è la novità, la collaborazione con la cantera quest'anno. Sì, abbiamo intrapreso la collaborazione con la cantera perché volevamo dare l'opportunità alla prima squadra di avere un serbatoio da cui attingere molto più elevato, perché loro hanno numeri grandi, quindi siccome l'obiettivo è far crescere velocemente i ragazzi per portarli a giocare in prima squadra, per cercare di contenere i costi. E questo grazie alla collaborazione noi con la cantera abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo più ragazzi e cercare in più possibile di non far disperdere le forze. Qui ci state riuscendo, c'è un 2005 che è esordito in prima squadra, mi dicevi Pocazzi a microfoni spenti, ne arriveranno altri. Sì, è un ragazzo che ha scelto di venire da noi, stava alla Curi, è un ragazzo che ha lavorato tantissimo, Nicola Ricci e che domenica è esordito da titolare in una partita difficile ed è il secondo che esordisce dopo Riccardo Luciani che però gioca in un ruolo a centrocampo dove ha più difficoltà. Lui invece ha personalità, è un ragazzo che secondo me ha margini di crescita, passami un attimo la battuta, speriamo che possa essere un futuro Gatti perché effettivamente è un ragazzo che ci tiene molto. Noi abbiamo dei 2003 molto molto bravi che giocano in prima squadra, non abbiamo 2000 e 2001 ma pochi 2002 e con la Juniors che sta secondo in classifica molto spesso scendiamo in campo con i 2005, cioè che sono ragazzi allievi. Io penso che questo discorso si può fare perché questi due anni del Covid ha un po' azzerato alcune situazioni, quindi adesso chi ha fame indipendentemente dall'età se ha le capacità secondo me deve essere messo in campo e questa società sta rischiando anche non arrivando a dei risultati perché siamo un po' in una situazione altalenante ma non stiamo in difficoltà, però ripeto quando le altre società decantano di far giocare tanti fuori quota però se un 2000 che è ancora fuori quota lo chiamiamo fuori quota a 22 anni allora io penso che il fuori quota è un ragazzo che ha 17-18 anni come noi nella vecchia Curi giocavamo a 16-17 anni. La mission come dicevi prima tu è quella di avere il prossimo anno una rosa dove ci sono ragazzi del settore giovanile e la società può gestire meglio le spese e i costi. È chiaro ci sono dei risultati da conseguire, bisognerebbe trovare sempre un quid medium, una sintesi però quando si tratta si parla di società direttantistiche e questo è un mio cavallo di battaglia bisogna dare spazio ai giovani poi chi se ne frega se i risultati arrivano o non arrivano. Sono d'accordissimo con te, se ci crediamo non dobbiamo farne soltanto un modo per pulirsi la bocca, dare dei paroloni, io gioco con i ragazzi, io credo nei ragazzi in eccellenza, quest'anno lo sto seguendo, la bella realtà è sicuramente il Giulianova anche se i fuori quota che ha sono di valore perché vengono da professionisti, però loro ci hanno creduto, da una società come l'Aquila, da Vezzano non ci si può aspettare che giocano i giovani, ma da società che noi chiamiamo dilettanti ce ne sono qui tantissime, il Monte Silvano, la Flacco, stanno facendo veramente giocare i giovani e di questo ne sono fiero. Juniors d'Elite, tu sei responsabile di questa squadra, come stanno andando le cose? Molto bene, dobbiamo ancora qualificarci per la seconda fase, l'obiettivo è qualificarsi per dare lustro ai ragazzi e per fargli fare una fase importante, ma se non dovessimo riuscire perché il lunedì non ho i migliori ragazzi, tra virgolette, quelli più pronti, o far giocare ancora quelli più giovani, sono contento lo stesso perché vuol dire che è servito alla prima squadra. Sia con la Juniors, ma negli allievi provinciali siamo primi in classifica, nei giovanissimi siamo primi e più partecipiamo ai campionati regionali, Under 14 e Under 16, per far crescere i ragazzi che comunque sono sotto età e che hanno bisogno ancora di fare un processo di crescita. Se dovessimo arrivare a vincere questi campionati avremmo messo una cittadina sulla torta, ma non è quella la mission, è quella di far giocare i ragazzi in prima squadra. È davvero un piacere rivedere Daniel Margarita, giocava fino all'altro ieri, per fermarti bisognava spararti. Sì, sì, erano bei tempi, ora abbiamo cambiato ruolo, mi ritrovo con piacere a fare l'allenatore di questi splendidi ragazzi, dello spoltore. Giovanissimi 2008? Sì, sì, giovanissimi 2008, facciamo due campionati, il provinciale e il regionale, dove affrontiamo il Pescara, pure l'Aquila, queste squadre qua. È cambiata la metodologia di allenamento? Sì, è molto cambiata, è molto cambiata, me ne sono accorto soprattutto al corso che ho fatto qua a Silvi, l'ho fatto e sono cambiati i tempi, anche le parole, anche le parole sono molto cambiate. Si cura molto il linguaggio? Si cura molto di più il linguaggio, sì, molto di più il linguaggio e devi sapere anche parlare. Giovanissimi ragazzi di 14 anni, 2008, quindi più o meno 13-14 anni, punti molto sull'aspetto tecnico immagino, no? Prima di tutto punto sotto l'aspetto umano, perché quella è la prima cosa per me. Dopo i ragazzi, sì, giorno dopo giorno sono anche contento di vedere molti miglioramenti di questi ragazzi, sia sotto l'aspetto umano, sia sotto l'aspetto tattico e soprattutto sotto l'aspetto tecnico. Se un ragazzo, anche uno grande, non sa stoppare la palla, vuol dire che ha fatto uno... Forse è meglio che fa altro. Sì, forse è meglio che fa altro, sì, sì. Però l'aspetto comportamentale, mi piace che l'hai sottolineato, anche questo è determinante, anzi è fondamentale, prioritario. Sì, sì, anche perché per il periodo che stiamo vivendo l'aspetto umano è la prima cosa, perché comunque ci sono ragazzi che magari stanno in quarantena, hanno avuto il covid, tu li devi saper prendere. Quindi, ripeto, come è stato da giocatore, così è da allenatore. L'aspetto umano viene prima di tutto, viene. Io ne approfitto perché purtroppo un grave infortunio sicuramente ha pregiudicato il tuo percorso. Quanti rimpianti ha Daniel Margherita? Per quello che avrebbe potuto essere non è stato. Ma ho tanti rimpianti, però sono anche felice così perché ho una famiglia bellissima, ho una moglie che mi segue dappertutto anche oggi, ho due figli stupendi, uno del 2008 e uno del 2011, Cristiano e Mattias, che mi hanno seguito ovunque. Chi è che gioca, Mattias? Mattias gioca nel Pescara. E' veloce come te, mi sa. Sì, sì, vabbè, è veloce. Poteva essere sicuramente un qualcosa di bello sotto l'aspetto professionale, ma ripeto, sono felice ugualmente se non di più perché ho una famiglia che è fantastica. Questa è la cosa più importante. La svolta però poteva essere Perugia? Sì, poteva essere Perugia, sì, perché comunque ero in rampa di lancio, così si dice, solo che il 25 aprile 2012, nel giorno in cui vincevamo pure il campionato, mi sono. Con Battistini e allenatori. Con Battistini e allenatori si affano e mi sono rotto il ginocchio dal calcio e è arrivato il brutto del calcio, ma va bene così, anche perché mi ha insegnato molto. Tanti ricordi in Abruzzo, hai giocato praticamente ovunque. Chieti, Teramo, Giulianova, Lanciano. Ho iniziato nei giovanili del Teramo, dopo ho fatto Valdisangro, Teramo, Giulianova, Lanciano, Chieti, mi mancava il Pescara. Però c'è stato un momento in cui... Sì, sì, c'è stato un momento nel 2008, sono stato vicino a vestire i colori bianca-azzurri. Che cosa è mancato? È mancato... Questo si può dire. No, no, non ci siamo messi d'accordo, ma non era nemmeno un qualcosa di fattibile, tra virgolette, era una pura chiacchierata tra procuratori, sai come funziona, no? La volontà sicuramente mia c'era, però... 2008-2009 o 2007-2008? No, no, era 2009-2010, l'anno dopo di Lanciano, sì, sì, io ero del Grosseto ancora e... Quindi con la nuova Società del Pescara che poi vinse il campionato con Di Francesco. Sì, 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 con la Cucura e... L'ho avuta a Lanciano, io, sì, sì, l'ho avuta a Lanciano, il mitico... Il mitico Eusebio. Sì, sì, sì. Gran, brava persona, ottimo allenatore, purtroppo sfortunato negli ultimi tempi. Il ricordo però più bello? Qual è stato? Ma il ricordo ne ho tantissimi, ne ho, dal primo gol a Lanciano, primo gol in Serie C il giorno prima del mio compleanno, l'11 settembre 2005, se non sbaglio. Teramo-Pavia, sì, 2-1 al novantesimo. E quindi ne ho tanti, ne ho tanti, perché il calcio è tutto molto bello. Anche la prima volta che ho fatto l'allenatore, guarda, sono momenti che auguro a questi ragazzi che alleno di vivere perché... Sono irripetibili. Sono irripetibili, sì, il calcio è lo sport più bello del mondo, secondo me. Grazie Daniel, sei stato gentilissimo, in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Piero Zuccherini, tanto piacere rivederti, alleni l'Under 16 ma anche gli allievi. Qual è la differenza? L'Under 16 è una categoria che... la vecchia categoria degli sperimentali. Un campionato importante, un campionato... Performante. Performante, propedeutico. C'è un campionato che da quest'anno fa anche classifica. Gli altri anni era quel campionato al quale partecipavano le squadre importanti tipo Giulianova, tipo Chidi, le squadre più importanti di Abruzzo. Questo campionato nel quale si dovrebbe lavorare solo ed esclusivamente per far crescere il ragazzo non bisognerebbe puntare al risultato. Ahimè, purtroppo sappiamo... Condiziona molto il risultato? Condiziona molto perché anche a questi livelli si comincia ad avere qualche pressione dall'esterno, pressione dovuta al quantitativo dei ragazzi da tesserare. Più si vince, più si hanno tesserati, porta anche a questo. Stiamo cercando noi, nel modo più assoluto, di partecipare a questo campionato con lo spirito giusto per far crescere questi ragazzi. Spesso si parla di queste nuove generazioni, si parla sempre a noi, una volta a noi. Invece io dico che c'è molto molto terreno fertile, ci sono molti ragazzi volenterosi, molti ragazzi che hanno ambizione e hanno anche delle forti basi per crescere. Quindi non è vero, secondo Piero Zuccherini, che i ragazzi di oggi hanno meno voglia di quelli di ieri? No, no. C'è un modo di dire soltanto? Ma secondo me è un modo di dire. Cioè i ragazzi hanno sempre voglia, vanno stimolati. E quello che stiamo percependo, dovuto anche a questo maledetto Covid, questi ragazzi si sono ritrovati dagli esordienti, proiettati agli allievi, quindi non hanno lavorato, non hanno fatto niente e hanno questa volontà. Dobbiamo bruciare le tappe per recuperare questi due anni persi perché per loro sono determinanti. Sono molto d'accordo con quello che hai detto. Allievi età intanto, scusa? Gli allievi abbracciano invece la fascia 2005-2006, entrambi gli anni. Qual è lo step di crescita su cui deve puntare l'allenatore in questa fascia di età? Questa fascia di età è il momento determinante. Qui si decide se il ragazzo può fare il salto di qualità e si decide una cosa ancora più importante, l'abbandono. Dopo questa categoria potrebbe abbandonare il ragazzo. In questa categoria bisogna dargli più input per dargli consapevolezza che è lo sport. qualsiasi esso venga praticato in qualsiasi categoria, in qualsiasi contesto deve proseguire perché è parte integrante della sua vita. In questa categoria si rischia veramente che l'anno successivo il ragazzo possa lasciare. Dal punto di vista tecnico e tattico, forse più tecnico. tattico si comincia a parlare di una tattica individuale importante e si cominciano a mettere nozioni di tattica anche collettiva. Dobbiamo consegnare questi ragazzi alle prime squadre del campionato Juniors. Grazie Piero, gentilissimo, soprattutto esaustivo. Grazie ancora. Grazie. Che piacere ritrovare Pier Giorgio Palladoro. Poi parleremo di tuoi trascorsi perché tu eri un funambolo del calcio, ma soprattutto del calcio a 5, qui a Spoltore per dare una mano. Guardi, sono qui a Spoltore da agosto perché ho mio figlio, 2008, che fa i giovanissimi. Il mister Loris mi ha chiesto di entrare come dirigente accompagnatore. Compagnatore, io volentieri, siccome mi piace stare in mezzo ai ragazzi, gli do una mano sotto quell'aspetto organizzativo per quanto riguarda le partite, le trasferte, tutto qui. A me fa molto piacere perché oltre a mio figlio mi piace stare proprio con i ragazzi. Ragazzi che però sono cambiati rispetto ai nostri tempi, no? Come no Massimo, rispetto ai nostri tempi. In meglio o in peggio? Ma guarda, adesso ci hanno tutto. Noi invece ai tempi nostri, beh tu lo sai benissimo, ai tempi nostri non c'erano i cellulari e si stava sempre in mezzo alla strada, si giocava con lo Yashin. Adesso devo dire che sono forse più voluti noi sotto l'aspetto dell'intelligenza, ma non lo so, oppure per il fatto che ci hanno tutto, computer, telefonini, invece noi ci accontentavamo dall'albomparini, figurine e così, erano altri tempi. Chiaro che non si possono fare paralleli perché i tempi sono cambiati, però la paese della strada era una risorsa di inestimabile valore per il bambino di ieri, no? Di una volta. È vero, è vero. Infatti basta dirti che in mezzo alla strada facevi di tutto e di più, ti facevi male, non è che andavi a meno che qualsiasi cosa trovavi ti curavi tu da solo, ecco questo. Forgiava il carattere, no? Il temperamento. Sì, sì, sì. Considera che il sabato io stavo, adesso c'è la Cerbo, ai tempi miei, giocavano prima i grandi, rispetto assoluto, e poi potevamo giocare noi. C'era proprio il rispetto alla gerarchia, il rispetto che adesso è difficile da trovare. È passato importante per quanto riguarda che tu eri veramente molto bravo, come calciatore ma anche e soprattutto come atleta di calcio a 5. Ho giocato col pescatore 74, poi sono stato due anni a Montesifano, poi mi sono fatto male e l'ho lasciato. Più negli anni 90 ho cominciato a giocare a calcio a 5, con il pescara a calcio a 5, abbiamo vinto due campionati di serie C regionali, poi una serie B nazionale, ho fatto una pool scudetto al fuori italico bellissimo e poi ho fatto un anno di serie A dove ci siamo salvati, ma era un altro calcetto. Corrado Roma, Gigi Marchioni, come no, Paolo Marini, eravamo una bella squadra. Gli albori del calcio a 5. Infatti si giocava con la palla numero 4, infatti non ho mai giocato con la palla al ribalzo controllato e non ci ho mai giocato. E l'edizione del fuori italico è stata bellissima. Tu eri un fantasista. Ma guarda, sì, devo dire che sì, ero bravo tecnicamente, vabbè, ho un piede solo, giocavo col destro, però... Ed è buono. Come no? Mi sono divertito, anche se il calcio a 5 non sa neanche alle Olimpiadi, è tutt'altro sport, però fatto a certi livelli è bello. E poi c'era il fenomeno che per me è Palopucci, Palopucci, fenomeno. Altri tempi? Basta dire che la Croce del Sud era lo stabilimento di giocatori. È proprio così. Bei tempi abbiamo ricordato quello che è stato. Pier Giorgio, lo dobbiamo dire senza tema di essere smentiti, anzi mi rivolgo alla telecamera guidata dal nostro Diego Martelli. Caro Tommaso, Pier Giorgio era un'altra storia a calcetto. Ti riferisci a mio cucino? Sì, è il dirigente numero uno. Ah sì? Sì, sì. Proprio senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio, il dirigente numero uno. Tanto ti vogliono bene. Mi prendono in giro. No, Tommaso è bravo come mister. Infatti devo dire che è un periodo allenato al Cuschiti, che era una bella scuola. Non fatti scherziamo, Tommaso, un grande amico, abbiamo condiviso tanti campionati insieme. Grazie Pier Giorgio. Grazie a te. Perché quando arrivi il cielo si apre in un secondo Con il tuo sorriso io mi prendo Mi splendo nel tuo sguardo Ringrazio il cielo per averti accanto Ti prendi in ogni cosa e non mi togli niente Vorrei sapessi quanto sei importante Ti voglio adesso e sempre È questa la promessa che io faccio a te